carissimi amici del canale telegramma dentro la notizia non c'è nulla di nuovo sotto il sole queste le parole del re salomone riportate nel libro ecclesiaste che denota profonda sapienza queste sono le parole chiave di oggi che potrebbero salvarci la vita sì l'uomo saggio impara dagli errori del passato e considerato che in fondo la storia umana è fatta di corsi e di ricorsi molti di noi hanno imparato la lezione quando bill gates predice qualcosa inevitabilmente si avvera o perlomeno lui stesso cerca di farla avverare e così la notizia di oggi che avrà profonde ripercussioni e necessita di altrettante profonde riflessioni è quanto affermato dal cosiddetto filantropo al think tank del lowey institute di sydney in questa occasione il miliardario ha avvertito l'australia di tenersi pronta per la prossima pandemia ma non si è limitato a questo ha detto qualcosa di interessante anche sulla cina ed altro ancora di cui stiamo per parlarvi potete vedere il video integrale sul nostro canale telegram iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice carissimi amici del canale dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su telegram per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su youtube e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robbie